ciao ragazzi quest'oggi come potete vedere ci troviamo davanti a un essere una specie ormai quasi estinta questo è un raro caso di Matt Matt è un giovane youtuber a cui piace fare i video su youtube lui non sa ancora che la sua esistenza sta per essere compromessa dalle skywars lui non sa ancora che molte persone lo faranno incazzare di brutto fino a farlo sclerare ed eliminare tutte quante le registrazioni andate per bene quindi per favore lasciate un like per sostenere la campagna proteggi la specie dei Matt ok ragazzi siamo nella prima partita cerchiamo di prenderci la partita noi Kids Farmer che ci dà un paio di pantaloni in ferro bene adesso ho un'altra uova e niente a mia madre che parla col cane vabbè no niente ragazzi non posso registrare io è per questo che faccio pure fatica a registrare ok vediamo un pochino adesso fermarsi in 3 player non ho più armature mamma è no niente continua non fa niente vado molto meglio solamente di spada no niente oh che infame che fa che fa mio dio mio mamma mia che cominciare 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 dai no dai ragazzi morto coso preso ne ho solo l'ho distrutto avevo distrutto coso ah matto la matto la matto la matto la matto qui giustamente attivato appena dell'acqua adesso si bravissimo ti senti forte ora che si scappa da un codardo prima ti senti forte bravo ancora me vuoi lasciare e ti butto di sotto ah raga non c'è knockback c'è anti knockback c'è anti knockback oddio come ti ho sgamato cioè ragazzi la terza forza che faccio già è anti knockback no non è possibile ragazzi non è possibile se non a me credo una sciacchero che non lo so veramente questo nemmeno direi che bisogna lasciare facilmente da questa no ma non ci posso credere io sono proprio deficiente sono deficiente vabbè ormai hai capito dai no quello che al centro c'ha 3000 ceste ma vabbè dettagli fiatezza 1 fiatezza 1 non mi serve veleno ma vado quante schifezze comunque che c'ho nell'inventario la bussola che cosa me ne faccio della bussola mi indica lui questo che sta qua ma questo mi vuole buttare mi sa che vuole ma perchè a me deve puntare questo figlio di alla ok ragazzi adesso lui questo qua vero da me io asafo dai asafo asaf00 se chiamo tra l'altro quindi non asafo io ragazzi non ancora realizzo quello che è successo cioè quindi in generale questo si è suicidato perchè ha scritto io odio la mia vita comunque ragazzi questo era un video per farvi capire cosa io dovevo passare ogni singola volta per provare a registrare anche una sola skywars io ho fatto vedere quello che avete quello che vi faccio quello che ci provo cioè quello che faccio io per provare a registrare ok? non è una cosa da poco quindi se vi è piaciuto il video iscrivete io ho provato a fare qualcosa di diverso anzi a fare la vanilla oppure non so il pack si questo è il terzo video siamo già i 10 iscritti mi va benissimo così ragazzi stiamo crescendo lentamente ma non mi importa sinceramente perchè a me basta solamente a condividere ciò che faccio e sperai che voi appreziate quello che io faccio che porto sul mio canale quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se è stato invito lasciate un commento mi piace iscrivervi al canale e al canale ciao ciao bello ciao 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 ciao